Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano Separazione Francesco Totti e Hilary Blasi Le news 30 novembre 2022 8 Hilary Blasi e Bastian Primo selfie di coppia e le foto del weekend di passione Lui la rende felice, Hilary Blasi ha un nuovo amore dopo la separazione da Francesco Totti Secondo il settimanale Chi, la conduttrice avrebbe trascorso, un weekend di passione, a Zurigo con Bastian, imprenditore tedesco Ecco il primo selfie della coppia e le foto del loro incontro tra, baci, abbracci e tenerezze Hilary Blasi e Bastian, fonte, chi attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su separazione Francesco Totti Hilary Blasi Le news attiva gli aggiornamenti Hilary Blasi ha un nuovo amore Cinque mesi dopo la separazione da Francesco Totti, il settimanale Chi pubblica le foto che ritraggono la conduttrice con un uomo di nome Bastian I due avrebbero trascorso un weekend di passione in un prestigioso hotel di Zurigo, in una suite da 1600 euro a notte Poi si sono salutati con un bacio in aeroporto Il settimanale pubblica le foto dell'incontro, ma anche il primo selfie della coppia Hilary Blasi dice addio a Totti, Bastian è il suo nuovo amore Hilary Blasi e Bastian, fonte, Chi il settimanale Chi racconta l'incontro tra Hilary Blasi e Bastian Il nuovo amore della conduttrice dell'isola dei famosi è un imprenditore tedesco che vive a Francoforte L'ex moglie di Francesco Totti, cinque mesi dopo la separazione dal cupone, avrebbe ritrovato la felicità Il racconto del weekend romantico di Hilary Blasi e Bastian L'abbraccio tra Bastian e Hilary Blasi, fonte, Chi il settimanale Chi racconta come si sarebbe svolto il weekend romantico di Hilary Blasi e Bastian La cornice è stata quella del lussuoso hotel Ted Older Grand La conduttrice e l'imprenditore sarebbero arrivati a Zurigo, presso la prestigiosa struttura, venerdì sera e sarebbero ripartiti domenica pomeriggio In hotel, un lungo abbraccio e un bacio prima di salutarsi, il primo selfie di coppia, fonte, Chi E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video